Ciao a tutti, Stage 4, un nuovo teatro, una nuova possibilità di esprimersi, come? Con stage, con spettacoli, con qualsiasi altra forma di intrattenimento utile al pubblico. Io ci sarò, farò qualcosa, organizzerò qualcosa, intanto voi piuttosto fate un'offerta, contribuite, perché gli artisti, in fondo, sono sempre soli e hanno bisogno del loro pubblico, quando il pubblico, inteso nel senso dello Stato e degli altri, non dà alcun fondo. Aiutiamoci e aiutateci ad aiutarvi. Stage 4, in gamba, ciao ragazzi!